FAUSTO BERTINOTTI 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 Quanto è difficile oggi risolvere il problema del precariato, non soltanto del precariato in ambito classico ma proprio del precariato di chi fa cultura? Questo è credo il problema fondamentale della civiltà europea. Il lavoro che i costituenti italiani con questa grande intuizione avevano messo a fondamento della Repubblica e che ha la base anche di questa enorme intuizione che sta a fondamento dell'articolo 3, cioè quella secondo cui il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero sviluppo della persona. Bene, proprio qui è avvenuto il rovesciamento. Il lavoro doveva essere il fondamento del diritto della cittadinanza. Oggi il lavoro si rovescia in una condanna. Anzi, se tu vuoi il lavoro devi rinunciare ai diritti. Sia questo che accade alla Fiat, per opera del modello autoritario di Marchionne, sia che appare diffusamente perché la precarietà è l'altra faccia di questa stessa medaglia. E la precarietà, come voi sapete bene, non è un'area, no, è una condizione generale, un'intera generazione, sia che stia a fare i lavori più, diciamo, meno riconosciuti, sia che faccia anche lavori alti, professionalmente alti. E' condannata la precarietà. Cioè noi stiamo proprio assistendo a un sistematico furto di futuro che questo meccanismo di accumulazione, questo sistema, questo modello economico e sociale sta producendo. Vorrei far osservare che negli ultimi tempi si rende manifesto che anche ciò che resta del modello sociale europeo viene aggredito nelle fondamenta. Quello che viene proposto è davvero una solitudine delle persone nella vita sociale. Tu stai insieme agli altri, ma sei condannato all'isolamento e alla solitudine. Io credo che sia questo che spiega la grande rivolta dei giovani in tanta parte dell'Europa e del Mediterraneo. Ultima domanda. Un consiglio di lettura di un libro che le è particolarmente caro e, al rovescio della medaglia, un libro che ha particolarmente detestato. Se c'è. No, libri che detestati no. Si possono detestare delle opinioni politiche, io detesto parecchi. Ma non sono angelico. Ma non un libro. Nel momento in cui viene fissato in un libro, secondo me deve prevalere la curiosità. E qui anche di posizioni a cui si è molto avversi. Naturalmente, se poi uno mi dice Mein Kampf, allora sì, gli dice, vabbè, no, quello no. Ecco. Ne potrei citare tante, ma ne viene in mente uno. Non saprei dire perché, ma consiglierei lettera a una professoressa di Don Milani. Forse perché è così rivolto a dei ragazzi, a dei giovani, anzi è scritto con dei ragazzi e dei giovani, a cui questo furto di futuro era l'impedimento a proseguire l'attività scolastica per la loro provenienza di figli di contadini, di figli di lavoratori. E perciò poteva però assumere questo linguaggio universale. Ecco, una buona lettura. Lettera a una professoressa. Ringraziamo Fausto Bertinotti per la disponibilità. Da Libri Blog è tutto. Grazie.